E lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi o te dica, vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Sicuramente ieri come me avrai riflettuto su questo argomento e sicuramente avrai pensato e desiderato di bere da questa fonte. Avrai anche capito che da tale fonte dipende la vita eterna, che solo Lui può donarti. Questo versetto è una chiamata universale alla Chiesa e a ogni singolo essere umano che ode la voce di Dio. Non è altro che il dono di Dio. La grande libertà di Dio è evidente in questo versetto. Chi vuole, prenda in dono. E' un invito anche ai non credenti, a coloro che sono assetati della conoscenza di Dio. Se pensi di non credere, ma ti senti insoddisfatto da ciò che ti offre questo mondo, se ti senti assetato di giustizia, Cristo ti offre di provare a bere dalla sua fonte. Non ne sarai deluso e riceverai in dono la vita eterna. Buona giornata. Grazie a tutti.